Ciao ragazzi, benvenuti alla passeggiata del mercoledì, ancora una volta dedicata alle vostre domande e risposte. Scusatemi, non ho molto tempo per fare delle passeggiate verticali, ma le riprenderemo. Allora, come si gestiscono le situazioni quando si sovrappucono? Beh, innanzitutto dipende da quali situazioni stai parlando, ma in generale, banalmente, prendendone una alla volta. Quindi ti metti lì, piano piano, e cerchi di districare questa matassa. Vedi quali possono essere gli aspetti che puoi separare l'uno dall'altro e provi a fare le cose un passo alla volta. C'è un po' di vento oggi. Come eliminare i tic? Allora, è molto difficile, perché i tic possono derivare da varie cause, anche mediche e neurologiche, per cui non c'è una soluzione unica. In generale, molti tic, psicogeni, possono derivare appunto da stress psicologici, e questi possono essere trattati con un'adeguata psicoterapia. Il mio consiglio è quello di usare una psicoterapia ipnotica, come la mia, che funziona molto bene per questi casi. Ma il primo consiglio che ti ho dato resta. Fai una visita neurologica, cerca di capire se ci possono essere altre cause legate al tic. La meditazione può aiutare a guarire dal mal d'amore, altrimenti cosa potrebbe fare? Potrebbe aiutarti a gestire meglio le tue emozioni, ma non ti guarisce dal mal d'amore. La meditazione non è una cura per nulla, è un esercizio che addestra la mente. So che la risposta sul fatto che la meditazione non curi nulla non piace alle persone, ma è la pura verità. È come dire che andare in palestra cura il mal di schiena. Ad esempio, prendiamo un esperto, come il mio amico Luigi Angelini, sul mal di schiena. Lui potrebbe dirti che sviluppando determinati muscoli potresti prevenire il mal di schiena. Però la cura è qualcosa di un po' diverso. Se vuoi saperne di più su che cosa può fare la meditazione per te, vieni nel mio corso dei 10 giorni, gratuito. All'interno ci sono anche 50-60 tra i 300-400 benefici appurati scientificamente in questi anni. Che bella domanda. Il concetto di antifragilità di Taleb trova spazio nella psicologia attuale? Assolutamente sì. Se tu ad esempio leggi il lato positivo dello stress, troverai una versione scientifica dell'antifragilità di Taleb. Allora, mi piace rispondere un po' a tutti e purtroppo devo rispondere anche a cose a cui non vorrei rispondere. Money Valley? Ah no, Mind Valley. Allora, penso che il progetto di Vinset, la Chiani, sia eccezionale da un punto di vista del business, ma da un punto di vista della crescita personale ci vuole un po' di coerenza su certe cose. Non puoi dire tutto è il contrario di tutto. Timidezza eccessiva a 20 anni, come riuscire a superarla? Allora, sul mio blog, su Psynel, trovi diverse puntate dedicate alla timidezza. Prova ad applicarle e se non ci riesci da sola dovrai fare un percorso psicologico. Comunque essenzialmente la timidezza si nutre degli evitamenti, cioè meno fai determinate cose più diventi timida, meno entri in quel bar e meno avrai voglia di entrarci. Fai una bella ricerca su Psynel e noi ci vediamo dopo perché sono arrivato in città. Torniamo con le nostre domandine. Come gestire la permalosità? Eh, questa è una bella domanda, anche perché io sono una persona permalosa che tende a prendersela. Per cui quello che ha salvato me è stata, e indovina un po', la meditazione. Ora ti spiego, essere permalosi significa prendersela sul personale, la meditazione invece è l'esatto contrario, è cercare invece di lasciare andare tutto ciò che non è importante, come ad esempio lo sfottò di un amico un po' stronzo e cose del genere. In altre parole, per diventare meno permaloso devi imparare a lasciare andare le cose che te la fanno prendere, tra virgolette. La meditazione è uno strumento della madonna per farlo, la trovi su Facebook, 10 giorni di meditazione. Wow, che bella domanda ragazzi, qua però dovremmo farci una puntatona intera. Come avviare la professione? Una buona modalità è quella di iniziare a comunicare utilizzando proprio questi aggeggi qua, quindi utilizzando Instagram e i social in genere. Così in te farei in questo modo, cercherei un ambito della psicologia, se sei uno psicologo che ti piaccia o della tua professione, e cercherei di creare delle mini lezioni da fare o su YouTube o qui su Instagram o in entrambi i posti. Mettiamo che tu sia uno psicologo e tu abbia appena fatto l'esame di Stato, quindi probabilmente avrai freschi determinati concetti. Fai, non so, una mini guida per l'esame di Stato per gli psicologi in formato video, fai dei contenuti. Ricordati che tali contenuti non devi farli per noi psicologi, ma devi farli per le persone incuriosite dalla psicologia e per l'appunto i tuoi futuri clienti. Non ti preoccuparti se ti sembra che qualcun altro come me, Luca Mazzucchelli o qualsiasi altro divulgatore della psicologia ne abbia già parlato. Parla nello stesso nella tua modalità per far conoscere come tu intendi quel tipo di argomento. Se poi hai già un metodo, hai fatto una scuola e quindi hai già qualcosa da offrire, crea un piccolo pacchetto in modo che quando le persone ti contattano hai immediatamente la cosa da offrirgli, tipo, ok, questa cosa io la faccio in tot sedute, bla bla bla. L'eccesso di stimoli può provocare apatia? Sì, però non a tutti, diciamo, ecco. Oggi viviamo tutti in una società iperstimolanta e iperstimolante. Gli stimoli e i superstimoli, come vengono chiamati nella psicologia dell'attenzione, possono rendere poco sensibili, ecco, meno sensibili. Quindi non vorrei che si confondessero troppo le cose, cioè l'apatia non è necessariamente una desensibilizzazione agli stimoli, però potrebbe, la desensibilizzazione potrebbe portarci più facilmente all'apatia. Spero di essermi spiegato. Solo dalla noia nasce l'ideazione o più fai e più vorresti fare. Entrambe le cose. Vieni ad ascoltare la puntata che si chiama La Mente Sotto Sopra, dove parliamo esattamente di questa problematica, che non è così semplice. La terapia breve strategica di Nardone, che cosa ne pensi? Ne penso tutto il bene possibile. Sono quelle ricerche del Mentor Esercistitut di Palo Alto, di cui parliamo da anni e anni e anni su Psynel. Se ti interessa, vieni a farti un giro. Giorgio Nardone ha avuto ed ha il grande merito di aver sistematizzato tali ricerche, quindi le ricerche del Mentor Esercistitut di Palo Alto, e rese accessibili in protocolli molto semplici da imparare. Ovviamente sto presupponendo che tu sia interessato a questa terapia da terapeuta. Però funziona anche da paziente. A volte avere qualcosa di programmato mi fa sentire il tempo come opprimente. Purtroppo non si legge tutta la tua domanda, fa mela un po' più breve, però quella lì si chiama ansia. Semplicemente ansia. Devi gestire, imparare a gestire meglio la tua ansia, non la programmazione. E ci tengo a precisare che l'ansia non è necessariamente qualcosa di patologico, un'emozione che tutti possiamo provare, in base magari ad una programmazione eccessiva, quindi prima non ho detto proprio tutta la verità. Per cui impara a gestire questa cosa e affrontala apertamente. Per tutte le persone che sono interessate a gestire la propria ansia, ho fatto un corso. Andate sui 10 giorni di meditazione, scrivete e il mio staff vi darà il link per il corso Dall'ansia alla serenità, si chiama così. Genna, ho 20 anni e quando salgo in macchina per guidare ho l'ansia. Anche qui, di nuovo, l'ansia potrebbe essere un semplice evento che capita ogni tanto oppure essere un vero e proprio problema. Pertanto non esiste un'unica soluzione. Di certo nel percorso che ho creato, Dall'ansia alla serenità, non voglio fare pubblicità, però un pochettino devo farla, ci è spiegato un po' meglio questo passaggio, però di per sé alla tua età, ventenne e donna, diciamo che rientri un po' nella casistica delle persone che iniziano ad avere i primi segnali di ansia. Per cui prova ad affrontarla da sola, un passo alla volta, affronta invece di scappare. Accordati che l'ansia si nutre dei tuoi evitamenti. Questo significa che meno guidi, meno avrai voglia di guidare. Meno cerchi di affrontarla e meno riuscirai a gestirla. L'ultima cosa che devi fare è cercare di sopprimerla. Cerca di farla arrivare, vini su psine e cercare. Sono anche dovute alle aspettative catastrofiche? Assolutamente sì. È noto che c'è una correlazione strettissima tra depressione, timori, fobie e pensiero catastrofico. C'è la tendenza a pensare che tutto andrà per forza male. Un consiglio per riuscire a gestire al meglio questi pensieri è non cercare di smontarli con la logica perché sei abbastanza intelligente da capire che quei pensieri sono esagerati. Devi notarli, metterli da parte e andare avanti per la tua strada. Come gestire la solitudine? La solitudine è gli amici che non chiamano per uscire. Allora, questa cosa qua è un po' complessa perché dipende dalla tua personalità ma in generale se tu non dai non ricevi per cui tu per primo chiama i tuoi amici senza vergogna. Se temi di essere rifiutato e sono i tuoi amici diglielo, diglielo, digli guarda Marco non ti chiamo perché ho paura che tu mi rifiuti. Se temi di essere, di dare fastidio è solo una tua sega mentale, se dai fastidio non sono tuoi amici. Ricordati, se sei tu a dare amicizia riceverai amicizia. Se invece sei tu ad aspettarti che ti chiamino nessuno ti chiamerà, semplice. Come gestire i pensieri pesanti in modo produttivo? Dipende innanzitutto da che cosa intendi per pesanti e poi vai su Psynel e scrivi gestire i pensieri e la trovi. Basta che vai su Google, scrivi gestire i pensieri Psynel, clicchi invio e lo trovi. Non serve per fare un podcast tanta tanta pazienza. Un microfono da 100 euro, un programma per l'editing, io uso Audacity che è gratuito e Spreaker, ti scrivi a Spreaker e carichi i tuoi file. Semplice, è ovviamente un argomento. Come sempre mi avete fatto bellissime domande, purtroppo non riuscirò a rispondere a tutte, magari ci provo un po' più avanti o nell'arco della settimana. Grazie davvero a tutti e presto rimetterò il beige, avremo la possibilità di rispondere a tutti. Buon pomeriggio.